L'amministrazione comunale di Cosenza ripropone l'estate nei quartieri, la fortunata iniziativa rivolta a chi trascorre in città il mese di agosto e che parte alla chiusura dell'intrattenimento del lungo fiume Boulevard. Ieri sera protagonista il centro della città. Di scena la rassegna itinerante del folklore internazionale, promossa da due associazioni, Calabria Citra di Murano Calabro e i Cantori del Petto Ruto di San Sosti, ma erano presenti anche gruppi provenienti da altre regioni e anche dall'estero, per esempio da Polonia, Slovacchia e India. Abbiamo voluto dare l'avvio all'estate nei quartieri, nella città di Cosenza, con una serata legata ai gruppi folcloristici, partendo però dalla città nuova, quindi proprio da Piazza De Bruzzi, la piazza emblema dell'amministrazione comunale, perché ha sede il municipio, transitando per la città nuova, il salotto buono della città e arrivando a Piazza Loreto, ma questa è solo la prima tappa di una serie di iniziative, di attività di intrattenimento musicale che avverrà per tutta l'estate nei diversi quartieri, ad allietare i tanti cittadini che restano in città e non solo, anche i tanti turisti che in questo periodo avranno il piacere di venire qui a Cosenza. E poi Cosenza è bella da vedere in tutti i suoi ambiti, in tutte le sue sfaccettature, quindi le luci, i colori, i monumenti, le piazze e per questo abbiamo a disposizione delle tante persone che vogliono visitare Cosenza il bus scoperto, con dei tour diurni che attraverso il centro storico, la centro città, arrivano poi al Castello Svevo e poi tour notturni per vedere questa meravigliosa città e le sue luci anche di notte. L'estate nei quartieri prosegue toccando stasera Borgo Partenope con Luca Andrieri, domani 8 agosto Via degli Stadi con il lettrio di Fausto Guido e il 12 agosto Santi Polito con lo spettacolo Iennu Briganno.